Come far innamorare un uomo sposato più vecchio di te? Allora, tieni presente che se vuoi far innamorare un uomo sposato più vecchio di te devi considerare che probabilmente questa persona avrà esperienza e devi valutare alcune cose fondamentali se è un carattere flessibile, malleabile oppure manipolatore oppure anche un carattere possessivo questo è importante capirlo perché ovviamente devi tenere presente che siccome probabilmente è sposato da lunga data sua moglie non sarà più la donna premurosa e amorevole che c'era pura un uomo più anziano di te e magari più anziano in senso generale ha dei desideri che vuole soddisfare il desiderio principale è quello di sentirsi giovane sentirsi in grado di conquistare una donna che gli possa dare qualcosa anche su un piano fisico facendogli riscoprire in questo caso una vecchia vitalità quindi l'importante è che tu con lui raggiungi una buona intimità emotiva e una buona intimità fisica devi cercare di far sì che l'intimità fisica funzioni nel modo migliore perché poi dovrai togliergliela per farlo scarburare, scervellare, diciamo innamorare devi prima lavorare essendo femminile eccetera per come dire approcciare da un punto di vista fisico non dovrai mai dirgli lascia tua moglie fai questo che quello no, trova una buona intimità fisica regalagli nuove vitalità e questo dipende da te con la dolcezza, il modo di fare giusto puoi riuscire a farlo e poi inizia a togliere quando tu inizierai a togliere quello che gli hai dato lì inizierà il coinvolgimento e inizierà a perdere la testa perché per te è importante che perdere la testa e che si possa quindi innamorare innamorare follemente in modo tale da non ragionare più ovviamente devi tenere presente che questi giochi possono funzionare e possono anche non funzionare se non funzionano ci hai provato guarda oltre e non stare ad accanirti perché se arriverai ad accanirti è che andrà esattamente alla cosa opposta che sarai tu innamorati di lui e allora sarai tu a vivere poi forti sofferenze perché lui comunque ha una moglie quindi tu trovati sempre altre persone e poi giochiti la partita al meglio come ti ho detto seguimi su Instagram Massimo Terramasco su TikTok e su tutti i miei canali YouTube Massimo Terramasco crescita personale felicità benessere ma autostima e nuovissimo canale esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco ciao a tutti grazie a tutti